La città di Agrigento è ancora in fermento per i festeggiamenti della 75esima edizione del Mandorle in Fiore. Tante le iniziative in programma per celebrare questa importante manifestazione che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo. Oggi in particolare Agrigento si prepara per la fiaccolata dell'amicizia, un evento molto atteso che vedrà la partecipazione di tantissime persone. Si tratta di una sfilata di fiaccole che attraverserà a partire dalle ore 17 le vie del centro storico della città, da Piazza Vittoria Emanuele a Piazza Marconi fino al Viale della Vittoria, creando un'atmosfera magica e suggestiva. Alle ore 20 e 30 al Teatro Pirandello si terrà lo spettacolo del 65esimo Festival Internazionale del Folclore, che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da diversi paesi del mondo. Un'occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di altri popoli. E per concludere in bellezza la serata, in Vietnea alle ore 22 si terra la Notte dei Patrimoni, un evento che prevede spettacoli etnomusicali itineranti per le vie della città. Tutti gli appuntamenti in programma sono pubblicati sul sito ufficiale www.mandorleinfioragrigento.com e sull'app Agrigento.